Le lacrime del polpo piagnucolante a farle sono state! Se non si tira su di morale, per anni piangerà! Finché il mondo intero dalle sue lacrime sommerso non sarà! Un ombrello! Pensate che all'interno stia piovendo! Su, scopriamolo! Dietro la porta numero tre troverete ciò che cercate! Ecco, guardate! Guardate il polpo piagnucolante! Come la mia pecorella di peluche! Non preoccuparti, Daisy! Troveremo un nuovo amico per la tua pecorella! Lo smonta tutto! Ehi! Attenzione ai pupazzi di neve! Wow! Come facciamo ad arrivare alla porta con questi pupazzi di neve che ci pattinano contro? Benvenuti sul lago dei pupazzi di neve! Fatto delle lacrime ghiacciate del polpo piagnucolante! È una festa invernale e i pupazzi di neve sui pattini vanno! Si stanno divertendo, ma vi urteranno e ad aspettare vi costringeranno! Per oltrepassare i pupazzi di neve scontrosi e non scivolare, piccoli passetti prudenti con i piedi allargati dovrete fare! Cheringna! Ma dormitaabilities sul sole e neve cheunta direi per la!? Attenzione ai ora! Grazie! Grazie a tutti.